Un weekend a base di buon cibo e prodotti artigianali. È tutto pronto al Ciocco per il Festival d'autunno. La due giorni è giunta la terza edizione in programma sabato e domenica. Dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito, una grande festa itinerante tra la piazza del Ciocco dove ci saranno poni, cavalli e giochi per i più piccoli, la terrazza panoramica con gli stand di prodotti enogastronomici locali e la piazzetta di fronte al resort dove saranno presenti gli espositori di artigianato toscano. Non mancheranno poi degustazioni di vino, laboratori didattici ed esposizioni artistiche. Patrocinato dai comuni di Barga e Fosciandora, nel corso dell'evento, domenica 20 verrà presentata ufficialmente l'applicazione Il Ciocco App, strumento multimediale delle nuove generazioni per eccellenza. Sarà disponibile gratuitamente in download per gli utenti Android ed Apple e rappresenta un viaggio affascinante e intuitivo per coloro che desiderano visitare la tenuta e il territorio della Valle del Cerchio in maniera rapida e dinamica.